Fanno in questo momento l'ingresso in campo le squadre prima la Terna poi l'Olympus che vediamo schierato con il completo interamente blu notte mentre in azzurro classico l'FF Napoli Il fischio e si parte e l'Olympus a gestire il primo possesso Lion col palone fra i piedi lancio teso cercando Giorginio che si gira su Perugino va via destro Questo ragazzo di giocare e di essere decisivo Occhio a Ozziana che passa gran giocata Ozziana la sblocca con un capolavoro la giocata in fascia su Achilli battuto Lion in uscita Per Adriano Foglia che perde un pallone che rischia di essere sanguinoso perché calcia Cimanguigno in fascia contro Dimas Perde il pallone occhio che strappa Dimas va via trattenuto arriva Cimanguigno Punizione all'affidata a Fortino che va da Milucci Lion recupera la posizione e questa è fame fame di fuzza all'assoluta Assolutamente Giorginio si distende in tuffo Gagno Rinaldi 1-2 che si chiude preso dietro su Azzo Rinaldi Ha rimesso dentro anche Achilli Occhio a Giorginio Gagno Fortino Foglia prova a girarsi Foglia L'eterno L'immezzo Adriano Foglia 2-0 per il Napoli Dimas In buca Giorginio Ancora per Dimas Dimas Marzio Pallone alzato per Lollo Suazzo Strappo di Fortino e ripartenza Fortino Fortino sul fondo Vitor Rinaldi Occhio a Fortino Lo scarico Lion ci deve mettere tutto il suo talento Per Rinaldi 3-0 del Napoli Vitor Rinaldi Sì ma mezzo gol è di Fortino Ma che assist gli ha fatto Matteo Rinaldi Fortino Rinaldi 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 Traversa Pressato da Foglia Si rifugia da Lion Può essere anche lui Col suo tiro da fuori un'opzione Lo prova Deviazione 5 minuti alla fine del primo tempo Dimas Sul fondo Nel momento in cui il Napoli è riuscito subito a sbloccare la partita Di Eugenio Prova lui Vediamo un po' Va in porta Direttamente sulla barriera Una pessima idea Perché Ozzian si lancia contro Lion Ozzian O Lion Dimas in buca Giorginio Prova a girarsi A uno spazio Giorginio Giorginio suolata Calcia Ozzian Suona la sirena Al pala Savelli Un Napoli Perfetto Va all'intervallo Avanti Tre reti a zero Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo Ozzian Ozzian Limpus a dover gestire E a rischiare Lasciando la porta vuota In occasione Del quale Fortino Segna Il colpo Del probabile K.O. Mi espongo Non lo so Perché mancano 12 e 49 Ma siamo 5 a 0 Per il Napoli 12 e 19 Alla fine Giorginio calcia Recupera il Napoli Calcia Renoldi Aveva preso lo specchio Giorginio In angolo Da Di Eugenio Pallone intercettato Renoldi Con la porta vuota Il pallone sul fondo Di poco Occhio all'Olympus Di Eugenio Sterza Calcia Marzio Ancora Di Eugenio Pai Milucci La porta è vuota Calcia di esterno Calciare Hai detto Non tante occasioni Col portiere di movimento Occhio a Giorginio Ci mette una pezza Marzio La prima vera chance Dimas Tocco sotto Pallo esterno Olympus Che ha di fatto Rinunciato Al portiere di movimento Mentre Foglia Per poco Non fa il gol dell'anno Prova con Lai Un portiere di movimento Calcia Marzio Perfetto Alla premiazione Delle due squadre La parata di Marzio Ancora una volta Parlavi dei gol subiti Francesco Grande parata di Marzio Questo è uno dei motivi Per cui non prende Gole Nella Rambet Calcia Marzio para Ancora lui L'NVP della finalette È stato giudicato Fortino Mentre come miglior giocatore Della finale È stato indicato Vitor Remoldi Suona la sirena Al pala Savelli Il Napoli Il Napoli Vince il double Coppa Campionato Ci siamo fatti una bella Scorpacciata Anche gli amici Di PMG Sport Fuzzle Mentre sfila L'Olympus Per la premiazione Per ricevere La medaglia D'argento Di questa Coppa Italia Il Napoli Vince la Coppa Italia Di Serie A2 2020 2021 È tutto Azzurro Il trionfo Del pala Savelli Di Porto San Giorgio